La ricostruzione dell'Aquila deve avvenire senza alcuna esitazione e senza ritardi. È intervenuto così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta di nuovo all'Aquila quest'oggi per un nuovo summit blindatissimo dedicato ovviamente alla ricostruzione e anche al problema della rimozione delle macerie. Così ci ha riferito il presidente della provincia dell'Aquila Antonio Del Corvo, tra i partecipanti al tavolo tecnico organizzato presso la sede della struttura di gestione dell'emergenza. Sono state tante le polemiche che hanno paralizzato il lavoro di ricostruzione, ora però è giunto il momento di lavorare in maniera congiunta, ha detto. Oggi per esempio un problema che stava all'ordine del giorno è quello delle macerie, perché come tutti sanno in base all'ordinanza del 18 febbraio il soggetto dovrebbe effettuare il trasporto e la rimozione delle macerie del Comune è l'ASM, che però riteniamo non sia all'altezza della situazione. Il Comune vuole fortemente questa volontà ma sta ritardando molto. Io personalmente ho chiesto che almeno per i cantieri inersere, che comunque sono cantieri partiti prima del 18 febbraio, che riguardano i BLC e si dia comunque la possibilità, come era prima, ai privati di procedere al trasporto presso i siti di stoccaggio. Poi ho chiesto ai sindaci di mettere a disposizione qualche altro sito di stoccaggio, perché io credo che più andremo avanti e più questo problema sarà impellente. Il sottosegretario Letta ci ha tenuto a ribadire che se occorre per la realizzazione dei nuovi siti di stoccaggio il governo ha a disposizione per il finanziamento. Però qua la scelta è dei sindaci, debbano individuare il sito necessario. Ha fissato un nuovo appuntamento per la settimana prossima? Sì, il tavolo continua a riunirsi ogni giovedì per le problematiche diciamo più ordinarie, però comunque c'è questo interessamento e questa riconferma da parte del sottosegretario Letta che ha riconfermato la sua presenza ogni volta che ci sarà necessaria. Il tavolo di coordinamento per la ricostruzione ha precisato il presidente del Corvo che tornerà a riunirsi ogni giovedì e la sede giusta per riprendere il cammino della ricostruzione. Letta ha comunque parlato di un'informazione non corretta per ciò che concerne la gestione della fase post-emergenziale dell'Aquila. Ha parlato di ricostruzione pesante, si è parlato di affinare alcune regole che sono state poste all'ordinanza per accelerare le ricostruzioni, ma si è parlato soprattutto del problema della cattiva informazione che purtroppo passa. Ci vorrebbe un po' più di realtà da parte di coloro che partecipano a questo tavolo per saper riportare all'esterno poi l'effettiva volontà del tavolo. Purtroppo spesso questo non accade.